Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nero, una piccola breaking news riguardante il calcio mercato, riguardante il calcio francese, molto vicino al Milan grazie al nostro capo scout Goffrey Moncada Goffrey Moncada che nelle scorse settimane avrebbe proposto l'acquisto a Paolo Maldini e a Frederic Massara di questo giovane talento Stiamo parlando di Amin Adli, giocatore esterno offensivo, giocatore che è in forza al Tolosa, giocatore che piace tantissimo alle big inglesi per qualità, per tecnica, per rapidità e piace tantissimo anche al Borussia Dortmund Borussia Dortmund che sembrerebbe che sia sulle tracce del giocatore e che stia in qualche modo seguendo già da diversi mesi le sue prestazioni Ma il Milan sarebbe in pole position perché grazie ai contatti di Goffrey Moncada, responsabile capo scouting dell'area rossonera, caporato del rossonero Pierre Calullo e Alexis Almequer Il Milan sarebbe in pole position e addirittura i dirigenti rossoneri, guardate a Paolo Maldini, Frederic Massara e Evan Gazzidi sarebbero pronti a offrire 8-9 milioni di euro al Tolosa per strappare il calciatore alle concorrenti E' un giocatore che piace molto a Milan per la sua duttilità, per la sua tecnica, per la sua rapidità ed è un giocatore moderno e lo sappiamo tutti come il Ligue 2 Ci sono tanti talenti a costi ancora contenuti e quindi il Milan è un mercato, quello francese, che segue con grandissima attenzione L'operazione Amin Adli potrebbe essere molto simile a quella che ha parlato Alexis Almequer in rossonero perché ricordiamo Alexis Almequer, talento, Bega che è in forza al Milan E' arrivato per 7 milioni di euro, 3,5 di prestito e 3,5 di obbligo di riscatto E le cifre come vedete 8-9 milioni che viene richiesto per Adli sembrano suggerire un'operazione molto simile Ricordiamo che il nostro capo scout Gofri Moncada ha sicuramente contatti importanti ma soprattutto ha delle competenze importanti in termini di scouting Ricordiamo i due giocatori che sono arrivati in rossonero, Calulo e Salmequer ma anche il colpaccio che fece al Monaco quando portò Mbappé al Monaco Che poi l'anno dopo il Monaco, ricordiamo è storia, in qualche modo si liberò a grandissimi milioni di euro Mbappé perché Mbappé fu acquisito per 180 milioni di euro Quindi lo scouting è sicuramente molto importante, lo scouting è sicuramente un modo per aumentare i ricavi commerciali Perché molti giocatori possono in qualche modo essere rivenduti negli anni dopo generando importanti plusvalenze E quindi si parla del fenomeno del player trading, quindi di vendita di giocatori e in qualche modo come fonte di ricavo Il Milan chiaramente si focalizza molto sull'aspetto sportivo, sull'aspetto tecnico però è importante anche considerare l'aspetto economico Quindi Adli potrebbe essere un colpo in prospettiva, un colpo importante per Stefano Pioli Le cifre sia di ingaggio che di cartellino consentono al Milan di poter effettuare questo acquisto E ricordiamo il Milan si è mosso con largo anticipo offrendo 8-9 milioni di euro cercando di anticipare la concorrenza del Borussia Dortmund Sembrerebbe che il giocatore classe 2000 che ha il contratto in scadenza col Tolosa il 2022 Prenderà una decisione sul suo futuro tra qualche giorno al rientro dalle vacanze Una cosa è certa, per un giocatore giovane come Adli sarà sicuramente importante capire quello che sarà lo spazio a disposizione Per continuare a crescere, per continuare a migliorare, per diventare un giocatore importante nel prossimo futuro E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera